Continua il nostro viaggio all'interno della fabbrica Carraro. Ci troviamo in questo momento all'inizio della linea trattori primo tratto, dove viene assemblata la driveline del trattore, il cuore del trattore. Io sono Nicola Maietti e sono il responsabile qualità dell'azienda. In questa linea la trasmissione viene spostata su un carrello di linea e si muove lungo la linea durante la quale gli operatori eseguono le varie operazioni di montaggio all'interno di un tempo ciclo di 22 minuti. All'interno di questo tempo ciclo completano le varie operazioni di assemblaggio della driveline in base alla loro cartella di lavoro e alla configurazione del trattore che si va montando. Ci troviamo alla fine della linea di montaggio. La driveline è stata sostanzialmente completata. Oltre alla trasmissione sono stati collegati l'attacco traino ed il gancio traino, la parte di premontaggio del motore con all'interno il volano e la frizione, la parte anteriore del trattore con la sale Carraro e l'avantreno ed il supporto Zavorre. Inoltre è stata completata la parte idraulica del trattore con i tubi, i raccordi, le valvole, i filtri a decisione dei radiatori che verranno montati nel secondo tratto della linea dopo l'impianto di verniciatura. Una volta completata la driveline si passa alla postazione di controllo qualità dove verrà verificato che tutto quello che è stato montato è conforme all'ordine di montaggio del trattore, all'ordine cliente. Terminato il controllo qualità la driveline è ora pronta per entrare nell'impianto di verniciatura. Grazie per l'attenzione!